Il 21 maggio 2021 la volontaria di Croce Rossa spagnola Luna Reyes ha dovuto rimuovere tutti i propri profili social dopo una serie di pesanti insulti e minacce, anche di morte, in seguito alla pubblicazione di una sua foto mentre abbraccia un migrante e asseuta. Qualche mese prima il fotografo e curatore della pagina Facebook Humans of New York, Brandon Stanton, ha raccolto 2.3 milioni di euro, solo sui social, per le cure mediche di una delle protagoniste della storia che racconta sulla sua pagina. In ISEC Italia ci siamo occupati per anni di raggiungere un numero sempre crescente di giovani fra 18 e 30 anni da coinvolgere in progetti legati all'agenda 2030 dell'ONU per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sui social media ne abbiamo raggiunti così tanti da poter realizzare fra il 2017 e il 2018 oltre 2.000 progetti di impatto concreto sul territorio. Tutte queste dinamiche, tutto questo sistema, tutto questo spazio, sono in social media, per come li conosciamo oggi. La domanda che ci viene, naturale, quando interagiamo in questo spazio digitale che è in costante e perpetua espansione, uno spazio di cui facciamo sempre più fatica a vedere il confine, l'orizzonte è sempre un po' più in là. Ecco, quando interagiamo su questi spazi, quando consumiamo spazio online, la domanda è ma il ruolo dell'utente e il ruolo dell'essere umano come si collegano? Perché spesso sembra che il ruolo dell'essere umano venga sostituito dal ruolo dell'utente, completamente. E quindi quando noi agiamo, quanto siamo per davvero autentici, cioè corrispondenti al vero? Quanto il nostro contenuto consumato online, il nostro contenuto pubblicato online, corrisponde a chi siamo davvero e ancora meglio, a chi vogliamo essere per davvero. Facciamo un passo indietro. Nel mondo ci sono 8 miliardi di persone e 2.1 miliardi di siti web. Contemporaneamente, tutti i giorni, 3 miliardi e 900 milioni di persone sono attive sui social media. È uno spazio talmente ampio che non ci rendiamo nemmeno conto che nella società occidentale non lo stiamo nemmeno occupando tutto. Ci sono tutta una serie di spazi, penso a Vcontact, a Navera, QQ, a WeChat, che non stiamo occupando per davvero e in cui invece centinaia di milioni di persone tutti i giorni interagiscono. Questo perché lo spazio, per come lo intendiamo ora, digitale, si è espanso tantissimo in ampiezza, molto meno in profondità e nell'assenza di profondità si ce l'ha spesso un'assenza di autenticità. Ora, il funzionamento dei social media è abbastanza conosciuto a tutti noi. Più tempo io passo sul social, più quello guadagna, perché è in grado di mostrarmi un numero crescente di pubblicità, di inserzionisti. Quello che spesso non c'è chiaro però è qual è l'output per noi, il risultato per noi del business model che governa i social media. Ora, l'algoritmo che governa il business model è progettato essenzialmente, specificamente per mostrarmi contenuto sempre più simile a quello che ho visualizzato in precedenza. Ogni volta che io condivido, metto un like, tolgo un like, mando un contenuto a un mio amico, smetto di seguire una persona e comincio a seguirne un'altra, sto comunicando all'algoritmo cosa mi interessa e quindi si tara su di me, su che cosa potrebbe piacermi di nuovo e quindi me ne mostra di più. In questo modo io sto più sul social e di conseguenza c'è un maggiore ritorno pubblicitario. Quando un'agenzia di comunicazione crea una campagna e sceglie di farlo sui social media va a creare quello che in termine tecnico si chiama pubblico. Il pubblico è basato su una serie di elementi. I generi, della persona, l'età, la provenienza e soprattutto gli interessi. Gli interessi sono i cluster all'interno del quale il social media ci pone proprio in forza di tutte quelle azioni che noi abbiamo fatto online. L'utente, noi come utente, siamo il mix di quegli interessi. Ma noi come persone siamo solo il mix di quegli interessi? La mia risposta è no. La mia risposta è che però dobbiamo necessariamente cominciare ad analizzare quelle che sono le nostre interazioni sui social e il contenuto che consumiamo sui social, avendo chiaro qual è il ritorno per noi e per l'ecosistema all'interno del quale viviamo. Gli spazi digitali non sono meno reali perché sono digitali. Ce l'hanno spiegato molto bene organizzazioni come Odia Reticosta, Ti odia Paga, che si occupano tendenzialmente di odio online e quindi ci spiegano come insulti o minacce fatte online possano essere perseguite a norma di legge. Questo però non vale solo per gli aspetti negativi delle interazioni social. Questo vale soprattutto per gli aspetti positivi delle interazioni social. L'attivismo online, le raccolte fondi, la condivisione da parte di esperti di contenuti complessi che riescono ad essere raccontati in maniera migliore, in più interattiva, più ingaggiante. All'interno di Natba, un ente di policy advisory dove coordino un tavolo di lavoro sull'educazione, partiamo da un concetto essenziale. La tecnologia non è mai né buona né cattiva. L'uso che si fa della tecnologia è sempre o buono o cattivo. È un po' come le persone che non sono mai o buone o cattive. Ce lo spiegava già Shakespeare nel Mercanti di Venezia. Antonio e Shylock non sono personaggi necessariamente virtuosi o necessariamente malvagi, ma le loro azioni e le conseguenze delle loro azioni indubbiamente lo sono. Noi chi siamo per davvero quando ci muoviamo nella nostra bolla social che è determinata da tutti quegli interessi di cui parlavamo prima? Siamo le persone che insultano una coppia omosessuale che ha condiviso una foto come recentemente è successo nuovamente? O invece siamo quelle persone che cercano di capire cosa non sappiamo sul mondo e quindi cercano dei creators, cercano dei personaggi, degli esperti che parlano di questi temi per comprendere meglio temi che sono magari non vicini a noi. Io per esempio di abilismo e grassofobia non ho mai avuto grandissima esperienza. Recentemente ho iniziato a seguire due profili che parlano di questi temi. Il profilo di Sofia Righetti che si occupa di abilismo e il profilo di Bella di Faccia che si occupa di grassofobia è fat studies. Nel mio interagire con questo profilo ho comunicato all'algoritmo che questi temi mi interessano e che questi temi di inclusione sociale sono temi che trovo interessanti e soprattutto vicini a me. Quindi sto facendo un'operazione intenzionale e verticale, non solo sto agendo concretamente su quello che io visualizzo, rimuovendo contenuto, aggiungendo contenuto, rimuovendo persone, condividendo, salvando elementi e condividendo like magari su profili che prima non seguivo. Ma sto anche agendo sulla mia bolla social senza farlo veramente in prima persona. Sto ricostruendo la mia bolla social e impattando direttamente l'algoritmo tramite le mie azioni. Perché se io educo l'algoritmo a nuove visioni di me come utente perché mi voglio riflettere ed essere autentico rispetto a quello che è l'essere umano che c'è dietro quell'utente, sto ricreando la mia bolla social con un contenuto che è più costruttivo, meno distruttivo, ma che aggiunge valore a me come persona, al mio ecosistema. Ed è essenziale che questa attività venga praticata in maniera disciplinata. Non è sufficiente dire, sì ma io seguo un contenuto interessante, posto così. Io seguo un giornale, seguo un attivista. Ecco questo non è sufficiente perché l'algoritmo non impara solo su un elemento. Va stimolato in maniera continua ed è un'attività che si può fare in un contesto sociale. Si può fare con amici, con familiari, con parenti. Ci si può confrontare per capire come quello che noi stiamo consumando online nei nostri 53 minuti medi su Instagram tutti i giorni sta impattando di noi. Cosa stiamo imparando per davvero? Come stiamo usando davvero il nostro tempo. È un'attività sociale che migliora il nostro ecosistema. Io sono profondamente convinta che la tecnologia possa supportarci nel diventare esseri umani migliori. Ma diventare esseri umani migliori passa anche da diventare utenti più autentici e quindi migliori. È un passaggio da fare obbligatoriamente insieme. Nel diventare utenti che interagiscono con contenuti migliori, che si riflettono su chi noi siamo e su chi vogliamo diventare ancora di più, diventiamo progressivamente anche esseri umani migliori. E la tecnologia può essere un abilitatore di questi elementi, un abilitatore delle nostre competenze, della nostra creatività, dei nostri obiettivi e lo può essere solo però se noi ci adoperiamo affinché i social media con cui interagiamo siano più trasparenti rispetto a chi siamo, siano più simili possibile a noi e la mia certezza è che così facendo diventeremo indubbiamente utenti migliori, esseri umani migliori, sia online che offline. Grazie.